Mary Jane ASMR ciao ragazzi buonasera buonasera a tutti bentornati bentrovati spero stiate tutti molto bene oggi ennesimo appuntamento del relax insieme a me ma quella di oggi è anche un'occasione speciale perché per la seconda volta sul mio canale ho l'onore di collaborare nuovamente con un'azienda produttrice di gioielli molto molto seria forse in tanti già la conoscerete perché anche altri canali la sponsorizzano sto parlando di happiness boutique quindi questo video oltre che a farvi rilassare sarò un video anche dove vi mostrerò vi mostrerò i bellissimi gioielli che questa azienda mi ha regalato allora perché ho deciso di collaborare con questa azienda la porto di nuovo sul mio canale perché i suoi gioielli innanzitutto sono di una fattura speciale sono ben fatti e soprattutto sono in acciaio inossidabile e io personalmente li ho testati e devo dire che altre collane che mi sono state regalate le porto spesso indosso ci faccio anche la doccia non è mai successo niente oltre che ad essere di qualità buona sono anche fatte di un design particolarmente speciale e ve le voglio far vedere queste sono le due collane che mi sono arrivate che ho scelto io naturalmente e vi lascio chiaramente il link dei prodotti che ho scelto in bio qualora foste interessati io ho scelto questa ragazzi il quadrifoglio e la collanina con le farfalle e strass bellissima eccola eccola vi metterò i link in bio dei prodotti che ho scelto qualora vi piacessero ma vi metterò anche ragazzi il link del sito appunto dove potrete acquistare se vi piace un qualsiasi prodotto di happiness boutique dove appunto potrete acquistare con uno sconto che troverete appunto in bio qualora voi decideste di acquistare ragazzi potrete con il mio codice sconto Mary Jane ASMR appunto avere uno sconto sui prodotti che vi piacerebbe acquistare io sono molto molto lieta ragazzi e contenta di portarvi sul mio canale collaborazioni di questo genere perché io come vedete non porto spesso collaborazioni ne porto soltanto questa è l'azienda che con cui ho deciso di accettare di portare qui sul mio canale perché voglio portare qualcosa che possa essere diciamo possa davvero interessare alla gente ma soprattutto possa risultare di qualità ecco questa è un'azienda che io trovo fantastica ripeto con i loro prodotti mi trovo benissimo e consiglio anche a voi di provare questi prodotti insomma questi gioielli quindi oggi vi faccio rilassare con un po' di tapping su questa scatolina non vi preoccupate perché sotto al video vi metto tutti i riferimenti i link se vi piacciono le mie collane ho soprattutto il link dove poter acquistare con lo sconto sapete ragazzi ho un debolo per i gioielli devo dire che ne ho tantissimi negli anni negli anni mi sono stati regalati dal mio fidanzato attuale marito ma ne ho davvero tanti ragazzi però come avete notato non le sfoggio li metto li metto molto poco in live dovessi mettere tutto qualche ora ragazzi non ci sprecheremo più vado matta però mi piace averli vado matta per i gioielli ho sempre avuto un debolo lo ammetto questi prodotti questi prodotti ragazzi tra l'altro sono accessibili a tutti sono veramente dei prodotti ottimi ottima qualità prezzo è davvero importante acquistare un buon prodotto e personalmente io questa azienda la consiglio tantissimo poi le scatoline ragazzi sono ben fatte questa è rosa anche questa qui è rosa quella delle dei gioielli che mi sono arrivati la volta precedente invece erano colorate queste a tema unico le altre erano colorate ricordo belle anche quelle le faccio vedere un'altra volta ragazzi queste sono delle forfolline troppo belle eh sono troppo troppo belle e questo è un quadrifoglio che personalmente ragazzi me lo son scelta affinché mi porti un po' di fortuna ma ci sono anche dei dei bellissimi bracciali bellissimi orecchini anelli tante tante cose belle ragazzi dopo il dopo il tapping ragazzi volevo farvi rilassare i miei gioielli non fanno tapping forse solo il quadrifoglio volevo farvi rilassare con un po' di brushing camera e già che mi trovo visto che questo è un video chiacchiericcio volevo dirvi una cosa che ho notato nei miei video qua su youtube non dico spesso l'ho detta forse qualche tempo fa all'inizio ormai da qualche mese non so se lo sapete io faccio le live sulla piattaforma viola non posso fare il nome qua vabbè e tutte le sere io sono in live smr lì dopo che finisco la live smr su tiktok comunque tutte le sere mi trovate sulla piattaforma viola verso le 23 massimo 23 perché vi dico questo perché io so che c'è molta gente qui su youtube che mi segue che però non sa ancora perché non mi segue nemmeno su IG che io faccio live tutte le sere su questa piattaforma viola avrete capito penso qual è quindi vi dico questo ragazzi perché mi piacerebbe mi piacerebbe tanto che la gente ormai affezionata a me da tempo che mi segue qui nei miei video mi venisse a trovare qualche volta anche in lively mi farebbe davvero tanto piacere e la sera lì ci divertiamo ragazzi facciamo pronostici interagiamo si interagisce parecchio poiché la chat comunque è bella attiva e ho modo di di scambiare pensieri opinioni con gli utenti della mia live ovviamente oltre chiaramente oltre a rilassarci ovviamente quindi ragazzi mi farebbe piacere se veniste anche a trovarmi lì la sera mi trovate lì 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 devo dire che questi gioielli fanno bandana anche con i miei orecchini ragazzi questi sono di oro sono oro bianco e diamante questi invece acciaio questi strassalo giganti che potete vedere sulle forfalline sono credo siano strass o zirconi non ricordo bene non ricordo lì non ricordo lì 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 la lo faccio è perché c'è veramente una buona motivazione, vuol dire che il prodotto che vi mostro innanzitutto piace a me personalmente, ma soprattutto è di qualità, soprattutto lo mostro perché so che sono seguita da tante 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 ragazze, tante tante donne e questi sono dei gioielli che potrebbero interessare non solo a voi ma potrebbero anche essere pensati come una validissima idea regalo per i vostri cari e qualora decideste di comprare qualcosa dal link che io vi inserisco giù in infobox non dimenticate di inserire il codice sconto Mary Jane ASMR perché con quello, solo con quel codice avrete diritto allo sconto qualora sareste interessati a comprare qualcosa, trovo un'ottima idea a volte sul mio canale youtube portare video collaborazione del genere perché c'è tanta gente che mi segue quindi molti potrebbero essere interessati a questo genere di cose qua e la trovo veramente un'ottima idea, io personalmente sfrutto l'occasione come idea regalo oltre che per acquistare qualcosa sa per me sa per me mi auguro di avervi rilassato almeno un po' almeno un po' venitemi poi a trovare sulla piattaforma viola la sera dopo le 23 grazie di cuore ragazzi per essere restati qui fino alla fine vi auguro una buonanotte se volete sonnecchiare e ci rivediamo al prossimo video ciao cucciolotti ciao 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 ciao